Allo scoccare della mezzanotte si sentì gridare Cenerentolo la cebatta! E così Alicio si ritrovò nel paese delle meraviglie Specchio, specchio delle mie brame Chi è il più muscoloso del reame? Bianconevo, rispose lo specchio E allora il bello si avvicinò al bestio E riprestò la sua schiuma da barba E finalmente il sirenetto poter indossare un paio di box Se il mondo è una favola, è grazie alle donne L'8 marzo, internet in regalo per tutti i nostri clienti